Cerchi un modo veloce per cucinare la zucca saporita e croccante? Allora prepariamole insieme in frigitrice ad aria Iniziamo lavando e asciugando bene la zucca Tagliamola a fettine di circa mezzo centimetro Tritiamo finemente il rosmarino e la salvia Inseriamo in una ciotola la zucca con olio, sale, pepe, paprika, cipolla in polvere E il rosmarino e la salvia appena tagliati Mescoliamo bene e spargiamo il pangrattato Stendiamole nel cestello e cuociamole per 20 minuti a 180 gradi Facile no? E dovete sentire quanto è croccante e saporita!